buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv insieme leggeremo i giornali come sempre il resto del carlino il Corriere Adriatico sulle pagine locali ci sono tante tante notizie sarà un weekend piuttosto intenso ci sono molte manifestazioni molte iniziative per passare almeno un fine settimana piacevole ma noi come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo la santa la santa che si festeggia oggi è Sant'Agnese di Bohemia ebbene Sant'Agnese era una persona regale pensate era la tredicesima figlia del re Otacar visse nel tredicesimo secolo seguace di Santa Chiara aveva avuto molti pretendenti ma la sua vocazione era quella religiosa quindi si fece seguace di San Francesco e anche di Santa Chiara ovviamente le scienze di vivere in povertà dedicandosi a pratiche ascetiche ed ora passiamo alle previsioni del tempo ebbene non sarà non sarà un weekend tanto allegro tanto piacevole dal punto di vista delle condizioni atmosferiche marzo è un mese ci siamo appena introdotti in questo mese un po' così variabile per quanto riguarda il bel tempo e il brutto tempo e questo weekend non sarà un granché sabato variabile sulle marche con rischio di locali piovaschi in transito specie sulla nostra provincia sul Pesarese i venti i venti i venti sulle coste espireranno da sud e sud est nell'entroterra invece da sud ovest le temperature 11 la minima 16 la massima il sole è sorto alle 6 e 47 e tramonterà alle 17 e 58 e con questo possiamo leggere i giornali questa mattina vediamo il resto del Carlino a partire dalla pagina di apertura di Fano in aeroporto decolla la scuola di volo a Fano nascono piloti professionisti ebbene abbiamo una risorsa non molto conosciuta ma importante nel nostro territorio la scuola di volo organizzata dalla Eagle Aviation Academy che forma piloti professionisti che poi possono anche guidare quei grossi aeroplani delle linee di volo internazionali è in piena attività a distanza di 10 anni dalla sua nascita questa scuola di volo che ha formato molti molti piloti ne è direttore Davide Cecchini che il 17 febbraio scorso ha così formato un nuovo pilota si tratta di Francesco Angelini sabato 16 marzo ci sarà una open day all'aeroporto di Fano rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori che vogliono imparare a volare si dice che imparare a volare costa molto sì insomma non è che costa pochissimo però insomma è una cifra abbordabile e poi le prospettive di carriera di lavoro sono veramente molto molto alte dato che si parla di scuola di volo insomma si vola molto molto alto invece purtroppo torniamo a terra per evidenziare questo problema un problema importante capannoni del carnevale tra disagi e degrado non è la prima volta che la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli denuncia lo stato di degrado dei cantieri del carnevale il cuore del carnevale un cuore che dovrebbe pulsare invece batte un po' a rilento anzi direi che batte molto molto a rilento perché le prospettive di organizzare il prossimo carnevale se la situazione rimanesse come l'attuale sono molto molto scarse che cosa è accaduto è accaduto che l'incuria gli agenti atmosferici le poche risorse a disposizione hanno fatto sì che la struttura proprio fisica dei capannoni sia in degrado ci piove dentro ci sono problemi per quanto riguarda la stabilità stessa delle grandi porte un pannello addirittura è caduto ed è stato tamponato con una toppa insomma precaria che deve essere riconsolidata e poi l'ultimo atto è quello del crollo del cancello d'ingresso per fortuna non c'era nessuno che passava in quel momento perché altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi ma il crollo del cancello ha permesso a degli estrani di entrare nel recinto del carnevale e poi di danneggiare anche le strutture perché si sono divertiti a rompere i vetri degli ingressi posteriori insomma veramente una situazione precaria l'acqua che piove che penetra all'interno entra nel sistema elettrico crea danni e poi insomma lì ci sono anche strutture molto fragili perché i carri del canevale sono fatti di carta di carta pesta quindi l'umidità certo non fa bene alla loro conservazione occorre quindi intervenire al più presto questo è il grido d'allarme che solge dalla carnevalesca ma oggi sarà un giorno importante anche per quanto riguarda il nuoto della nostra città anzi un giorno storico possiamo dire perché dopo l'inaugurazione formale che è stata fatta alla nuova piscina realizzata dalla fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto oggi ci sarà l'apertura al pubblico ieri la conferenza stampa che ha annunciato orari, prezzi, modalità di accesso e via dicendo ci siamo, ci siamo, nuotiamo, apre al pubblico il primo bagno costa 5 euro, un prezzo ridotto per oggi e domani insomma un grande afflusso di gente che potrà fare il primo bagno in questo bellissimo impianto che è stato realizzato dalla fondazione Carifano dato in usufrutto al comune per 30 anni il comune poi invece l'ha dato in gestione a un pool di associazioni, di società che lo gestiranno per 15 anni le società sono la pool 4.0 in accordo con la Fanum Fortune Nuoto che è la società storica della nostra città e allora diamo un'occhiata, qualche notizia per quanto riguarda l'uso l'inaugurazione oggi alle 10, il prezzo dicevo oggi domani 5 euro, poi aumenterà a 8 euro e poi insomma leggendo il giornale si vedono tutti gli orari lunedì, mercoledì e venerdì l'impianto sarà aperto dalle 7 alle 22 martedì e giovedì dalle 8 alle 21 uno sabato dalle 8 alle 18 domenica dalle 9 alle 13 insomma domenica a un orario ridotto un programma tutto ambientalista costituisce l'offerta di Eutopia Eutopia, una voce che ridà voce ai classici ambientalista perché? Ambientalista nel senso della efficienza energetica, della tecnica anche in antico la tecnica era un settore molto molto curato dagli uomini del nostro antico periodo in cui si sono determinati i canoni della classicità, dell'equilibrio, dell'armonia e equilibrio e armonia fanno parte di una società che pensa appunto all'efficienza ma pensa anche alla compatibilità ambientale e questo tema di ambiente costituisce anche il leitmotiv di circonomia che è il festival che caratterizzerà in modo particolare ci sono poi anche altre iniziative la settimana di Fano che parteciperà alla capitale della cultura di Pesaro 50 più 50 insomma sappiamo benissimo che Pesaro ha delegato anche altri comuni a partecipare a questo grande evento che lo pone all'attenzione della ribalta nazionale la cultura è circonomia ci sono collegati un po' questi due aspetti tra eutopia che ridà la voce ai classici e la cultura è circonomia caro figlio e Ferrara tra gli ospiti qua vediamo l'immagine di Ferrara che sarà a Fano insieme allo scrittore caro figlio insomma ci sono dei personaggi c'è anche Mario Cucinella Paolo Pagliaro Francesco Borgonovo Stefano Ciafani e poi Laura Gatti Marcello Masi insomma ci sono tanti altri personaggi molto noti che parteciperanno a convegni ma sono 34 gli eventi che faranno parte di Circonomia ci sono laboratori per bambini ci sono mostre, incontri insomma tante tante cose che daranno veramente la linfa all'affano culturale sarà una Pasqua senza la guardia medica purtroppo in tutta la Val Cesano dai prospetti redati dall'azienda sanitaria locale risulta che in tutti e tre le sedi della vallata del Cesano non ci saranno i medici per quanto riguarda i turni diurni e notturni e viene a mancare un servizio importante perché la guardia medica quando non è disponibile il medico di Paz è un punto di riferimento importantissimo perché se no non ci si può dove ci si rivolge se non al pronto soccorso intasando veramente quel reparto così critico così diciamo così fragile per quanto riguarda poi l'efficienza dei servizi ospedalieri ebbene dai prospetti redati dall'aste di Pesaro risulta che in tutti e tre i presidi della vallata Pergola, Mondavio e Mondolfo sia domenica 31 marzo sia il sabato precedente in tutte le sedi sopra citate saranno sguarniti tanto i turni diurni che quelli di notte con quasi 42 mila persone che rimarranno prive del servizio il punto di primo intervento dell'ospedale pergolese Santi Carlo Donnino per gli altri 31 mila che faranno riferimento alle guardie mediche di Mondavio e Mondolfo non resterà che raggiungere il pronto soccorso del Santa Croce di Fano insomma verranno chiusi tutti questi altri presidi e l'unica disponibilità è quella del pronto soccorso di Fano che probabilmente sarà intasato di richieste Mondavio e Pergola in evidenza al Salone del Tempo Libero sono state tra le località preferite da tanti visitatori e di liberamente tenutisi a Bologna Fiere e qui vediamo la Confcommercio che per quanto riguarda in modo particolare Pergola ma anche altre località dell'entroterra ha in gestione diverse strutture Ed ora parliamo di politica parliamo di elezioni siamo a Durbino perché il sindaco Maurizio Gambini tenta la carta del terzo mandato ho deciso ha detto mi ricandido a sindaco il primo cittadino annuncia che da lunedì si confronterà con alleati e partiti confermo la squadra storica con allargamenti ha detto Maurizio Gambini ebbè una riconferma poi vedremo che anche il sindaco Ricci pensa a questa eventualità tutta Fermegnano si mobilità per l'addio a Marcello Falconi si terranno oggi alle 15 in Duomo i funerali del 51enne camionista morto nella tangenziale di Bologna uno scontro veramente drammatico tra due furgoni tantissimi i messaggi di cordoglio in particolare dal motoclub di cui era stato un grande animatore si terranno oggi appunto i funerali di Marcello Falconi vediamo anche un articolo di cronaca siamo a Cagli i carabinieri di Cagli hanno arrestato un uomo che minacciava la moglie con il fucile insomma l'aveva minacciata più volte puntandogli il fucile contro e l'uomo aveva quest'arma sì detenuta in modo regolare ci aveva anche le munizioni ma certo è che i maltrattamenti si stavano susseguendo in modo molto molto drammatico e quindi i carabinieri sono entrati in azione nuove opere per il Museo di Mercatello sul Metauro arte contemporanea a Palazzo Gasparini a 11 anni dalla sua apertura la mostra permanente d'arte di Palazzo Gasparini a Mercatello si arricchisce di 24 nuove opere e bisognerà andarle a vedere senz'altro vediamo anche la pagina di Pesaro che pubblica oggi il resto del Carlino e si ritorna a quell'episodio drammatico che è accaduto a Mercatino Conca dove un cane un grosso cane maremmano un po' meticcio ha alzannato al collo la padrona una ottantenne poveretta è morta Gianna un'agonia di pochi minuti il cane le ha reciso la carotide e quindi la signora è morta dissanguata il figlio non dovevi andartene così il commosso ricordo della madre l'animale in un canile i veterinari devono decidere se abbatterlo il marito non so perché l'abbia fatto certo è che il cane aveva già dato in passato manifestazioni di aggressività tant'è che un uomo che era entrato nel giardino dovuto salire sul cofano dell'auto perché il cane lo stava rincorrendo ed ora andiamo un'occhiata alla giornata di inaugurazione del Palace di Via dei Partigiani a Pesaro con la presenza di Pecco Bagnaia e questo campione di moto che con Pesaro ha un rapporto particolare Pecco a Pesaro ora è la mia città qui la vera svolta della mia carriera insomma Pesaro è un po' l'incubatrice di campioni dello sport e del motociclismo c'era Agostini c'era poi il grande dottore e poi ancora Pecco insomma abbiamo dei campioni che veramente a Pesaro ci sono fatti le ossa Bagnaia festeggiato dalla folla all'auditorium Scavolini con il conferimento della cittadinanza onoraria il campione casa e spesa domizia l'anima gemella a luglio i fiori d'arancio e i bimbi e un po' presto insomma si entra anche nella sfera privata di questo campione vediamo anche le previsioni elettorali per quanto riguarda l'amministrazione pesarese candidati i tormenti del partito democratico Biancani nelle mani del comitato dei saggi ma Ricci punta su Vimini e Biancani e Vimini sono i due candidati in lizza per così partecipare alle elezioni a candidato sindaco del capoluogo il prossimo giugno e vediamo qui invece la foto di Mustafa Alashri l'uomo che è stato accusato del delitto di Anastasia si procede ancora con le udienze di fronte al tribunale e Alashri dovrà rispondere anche del reato di calunia perché aveva accusato la l'amico della moglie l'amico di Anastasia insieme a quest'ultima che aveva l'intenzione di ucciderlo ovviamente la cosa non risultava vera e quindi ora viene accusato anche di calunia oltre che ovviamente di omicidio violenza sessuale a Gabice parliamo di un altro reato vittima in aula tra pianti e singhiozzi si tratta di una ragazza di 19 anni bergamasca che il 29 luglio del 2022 fu vittima di una aggressione sessuale aveva passato la notte in discoteca a Gabice Monte a Baia Imperiale era stata poi uscita in compagnia di un ragazzo che aveva conosciuto questo l'ultimo l'aveva accompagnata fino alla macchina poi una volta raggiunta la vettura l'ha spinta nel sedile posteriore e le ha consumato controvoglia l'atto sessuale la ragazza non ha resistito per paura di altre reazioni ma dopo quando tutto è finito si è confidata con l'amica e poi con i genitori e alla fine tutto è andato dalle forze dell'ordine e questo uomo dovrà rispondere di quanto ha compiuto si tratta di un di un 35enne di Milano insomma è uno che dovrà rispondere di quanto ha fatto e per quanto riguarda la immancabile presenza della discarica di riceci sui giornali e stamattina vediamo che il sindaco Matteo Ricci ribadisce la sua posizione io non sapevo nulla c'è chi mente a volerla questa discarica è stato Tiviroli amministratore delegato di Marche Multiservizi ed ora passiamo alla lettura del Corriere Adriatico ecco qua la pagina di apertura dedicata al funzionamento della piscina nei pressi dell'aeroporto piscina primo tuffo alle 10 di questa mattina bacino di 100.000 utenti perché non servirà soltanto Fano che ne ha 60.000 virtuali ovviamente ma anche tutto l'introterra perché poi insomma è un impianto che si pone in evidenza anche a livello regionale e poi una segnalazione di Fratelli d'Italia al campus scolastico di via Tommassoni gli alberi abbattuti non saranno sostituiti infatti il progetto non prevede la sostituzione delle piante si parla poi dei problemi dei capannoni del carnevale capannoni crolla il cancello il degrado è insostenibile la carnevalesca segnala i danni del maltempo nella notte anche atti vandalici e poi il festival di circonomia 34 eventi con oltre 100 ospiti qua vediamo la foto dell'assessore Cora Fattori che ha organizzato questa settimana che partirà il 5 il 5 marzo prossimo fino al 10 in realtà si parte dal lunedì per tutta la settimana con questo festival che viene importato sì dal Piemonte ma dovrebbe radicarsi secondo le intenzioni dell'assessora nella realtà fanese rigenerazione urbana tramite l'arto tanti eventi nati dalle associazioni ebbene non solo Fano parteciperà 50 per 50 cioè quelle iniziative che Pesaro ha così dato la possibilità di organizzare anche ai comuni della provincia ma anche il comune di Cagli e qui vediamo il sindaco Alberto Alessandri che ha preparato veramente un programma di manifestazioni altrettanto valido al via a marzo ricco di eventi per la città di Cagli dopo aver presentato alla cittadinanza il clou della settimana di Cagli nel progetto Pesaro 2024 ora ci sarà un'iniziativa con un nome tutto francese Dans l'Eternité Les Choses de l'Homme Dans l'Eternité Les Choses de l'Homme 8-14 aprile che prevede un'intensa collaborazione con le scuole quindi oltre alla settimana di 50 per 50 altre iniziative che proseguono tutto tutto l'anno cambio del medico 600 in fila a Mondolfo una disorganizzazione inaccettabile sono venuti a mancare per quanto riguarda il loro lavoro professionale due medici di base allora gli utenti devono cambiare il medico una fila enorme nel ufficio dove si segnala il medico che si intende poi scegliere quindi proteste a non finire si stima che circa 3.000 persone per chi si stima che circa 3.000 persone per chi non ha già fatto la scelta del nuovo medico dovranno essere ricollocati tra il nuovo personale messo a disposizione dall'AST insomma anche qui c'è una sorta di inefficienza Senigallia Senigallia lungomare da Vinci altra proroga occorre ancora prolungare i lavori per quanto riguarda la inagibilità di questo viale ebbene la ragione di questo provvedimento è per consentire agli operai di realizzare le opere di urbanizzazione che comportano l'occupazione temporanea della sede stradale che ovviamente non sarà agibile ai mezzi e quindi sarà chiusa al traffico per quanto riguarda invece la pagina di Pesaro torniamo all'auditorium Scavolini così è stato intitolato il palace di via dei partigiani sì l'auditorium è bello è inestamente veramente molto bello ma adesso dicono gli operatori coinvolgedeci nell'uso di questa grande struttura vogliamo utilizzarla per scopi che incentivino il turismo e qua vediamo quattro operatori che fanno le loro proposte Paolo Costantini presidente dell'APA può diventare il fulcro della destagionalizzazione per il nostro turismo cioè fare iniziative nei mesi più scarsi per quanto riguarda le presenze turistiche aprile maggio giugno ottobre novembre insomma sono questi mesi più scarsi diciamo così di presenze per Fabrizio Olivia Olivia del Baia del Flaminia Hotel la struttura dovrebbe essere usata per convention e business una sede ideale per inserire nei pacchetti di promozione Vincenzo Ricci Vincenzo Ricci della Via Rose non deve essere soltanto la sede del ROF infatti deve essere utilizzata anche per altre iniziative e lui stesso presenterà le sue idee per Marco Cadedu di Esatur potenzialità enormi di tutta la struttura per l'incoming sportivo ma niente allenamenti insomma una struttura che deve servire soprattutto al turismo vediamo qui ancora la pagina dedicata a Bagnaia ma noi la sorvoliamo e parliamo di Amianto siamo in conclusione voglio solo segnalarvi questo titolo Amianto e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti